Dove stai andando vestito così? Fuori. Fuori dove? Vado a vedere i miei amici. Quali amici? I miei amici di scuola. Voglio i nomi. Luca, Carlo, Andrea. Non uscire con loro. Ma sono miei amici. Pensi di continuare? A far birichinate con loro? Andremo a fare una passeggiata. E a fare birichinate. Uffa, me ne vado. No, tu non esci. Bam. E a fare unaünf. Grazie a tutti